Si tinde questa mattina davanti al Tribunale di Sassari dei fonici, trascrittori e senotipisti forensi che hanno aderito allo sciopero nazionale per dire stop alla precarietà. Sono dieci gli addetti alla trascrizione e i servizi di documentazione che hanno incrociato le braccia davanti al Palazzo di Giustizia di Via Roma per far valere i propri diritti. Chiedono la stabilizzazione. Siamo soffi di questa precarietà, soprattutto siamo un servizio fondamentale che abbiamo dimostrato di esserlo in tutti questi anni. Un servizio fondamentale e professionale non è giusto che siamo sempre in balia di queste gare d'appalto che non ci garantiscono una tranquillità, soprattutto dopo che ci vediamo come parte integrante di questo sistema. Una manifestazione proclamata dai sindacati di categoria Fincams CGL, Fisascat CISL e Will Trasporti che interessa 1.500 precari in tutta Italia. La nostra richiesta è che questi lavoratrici e questi lavoratori che collaborano a stretto contatto con i giudici e quindi sono una parte integrante di tutti i sistemi processuali vengano internalizzati dal Ministero di Giustizia. Alla base della protesta vi è proprio l'assenza di sviluppi concreti di un'infinita vertenza. A questo aggiungiamo che l'ultima modifica della legge di bilancio del 2024 ci darà la garanzia purtroppo certa che il nuovo appalto andrà in contrazione e quindi i lavoratori subiranno comunque delle ripercussioni e la nuova legge Catarbia chiaramente con l'introduzione delle metodologie innovative consentirà appunto l'automatismo dei processi penali e quindi anche la non necessità di avere delle persone fisiche a sostegno di quella esecuzione.